Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi finalmente come vi avevo promesso Siccome abbiamo superato i 100 mi piace, i 110 mi piace nel video Cioè quella sfida che avevo lanciato io praticamente Che se superavamo i 110 mi piace in quel video Facevamo poi il video per come partecipare alla Monelubi E ce l'abbiamo ovviamente fatta Con noi ovviamente c'è Banana, saluta Ciao ragazzi Ok, è ritornato ragazzi finalmente Niente, dobbiamo dire adesso le regole per come partecipare alla Monelubi Ovviamente il giorno Potete notare adesso la ruota panoramica che è incastrata nell'elicottero Questa è la potenza delle mod di Banana quindi qualcosa di epico Ora ragazzi, Monelubi, parliamo subito di Monelubi Cioè la prima parte, chiaramente parteciperanno 60 persone come l'altra volta La prima parte ragazzi si farà il 30 Mercoledì 30 settembre dalle 3 alle 4 e mezza ragazzi Quindi mercoledì 30 settembre dalle 3 alle 4 e mezza Parteciperanno le prime 30 persone E poi la prossima, cioè l'altra metà Mercoledì 7 ottobre ragazzi Dalle 3 alle 4 e mezza Sempre stesso orario E adesso ragazzi come partecipare Dovete ovviamente lasciare un like A questo video ovviamente Poi dovete praticamente commentare Su Facebook possibilmente Ma chi non ha Facebook su Youtube Dovete commentare con scritto partecipo più di DPSN I primi 60 che scrivono partecipo Con il DPSN Parteciperanno alla Monelubi Chiaramente farò la lista precisa dal primo a 60 Quelli che scrivono partecipo dopo il 60 ragazzi Non potranno partecipare Sono stato chiarissimo Quindi dovete scrivere su Facebook Sotto al post che scriverò lì praticamente Partecipo più di DPSN E i primi 60 parteciperanno chiaramente Alla Monelubi I primi 30 il primo giorno Gli altri 30 il secondo giorno Che sarebbe l'altro mercoledì Quindi ragazzi vi stavo dicendo Dovete lasciare un like a questo video Commentare su Facebook Chi non ha Facebook su Youtube E poi ragazzi Dovete lasciare tutti un like Sulla pagina di Facebook Che vi metterò in descrizione E poi se potete Seguitemi anche su Instagram Che vi metterò il link in descrizione Semplicissimo ragazzi E ovviamente daremo 3 cascate a testa Che banana Quanti soldi sono praticamente? Ma sarebbe un 30 30 milioni più o meno Ecco quindi ragazzi 30 milioni sono abbastanza Che quindi vi potete comprare un sacco di cose Poi ecco Sta sparando soldi dall'elicottero Perfetto Poi ragazzi L'altra cosa buona è che Siccome C'è buona da una parte Siccome non usciranno più DLC Aggiornamenti per Play 3 Lui non perderà più i mod menu E ho visto che neanche stanno più bannando Su Play 3 Quindi c'è Di lusso proprio Per chi ha le mod Questo E niente ragazzi Ho detto tutto Praticamente Ricapitoliamo Le regole Ascoltatemi veramente bene Vi scriverò sicuramente Tutto sullo schermo Per essere deciso Monelubbi Il primo giorno che sarebbe Mercoledì 30 settembre Dalle ore 3 alle 4 e mezza Seconda Monelubbi Mercoledì 7 ottobre Dalle 3 alle 4 e mezza Ragazzi Parteciperanno Le prime 30 persone Il primo giorno Il secondo giorno Poi le altre 30 persone Per partecipare Dovete lasciare un like A questo video Commentare Su Facebook Possibilmente E su Youtube Per chi non ha Facebook Partecipo Con l'IDPSN Così ragazzi Viene molto più precisa La situazione E poi ragazzi Una cosa che mi sono dimenticato Di dire Prima Dovete mandarmi tutti L'amicizia Al secondo profilo Del PSN Che si chiama AlexZGaming2 Lo scriverò sullo schermo E ovviamente adesso cancellerò Le amicizie vecchie Perché se no C'è il pienone là dentro Quindi non si capirà niente Quindi mandatemi tutti L'amicizia lì E l'accetterò Solamente alle 60 persone Che parteciperanno A questa Monelubbi Ragazzi Quindi ragazzi Sono stato Piuttosto chiaro Per questo video è tutto Chiaramente dovete Spolliciare un macello Anche in questo video Banana che S'è uscito dall'elicottero Come sto notando Io non sto giocando Proprio praticamente Quindi ragazzi Per questo video è tutto Banana puoi salutare Ciao ragazzi Ci vediamo alla Monelubbi Ok chiaramente ragazzi Lui farà l'host Quindi Quando prendete i soldi Dovete uscire dalla Sessione ovviamente E andare nella storia Così i soldi si salvano E poi ritornare online Per cavoli vostri Se non si ubbidisce A questa cosa Chiaramente lui Espellerà tutti Dalla sessione Tipo adesso sto facendo X-Men Che mi sto Triplicando Ma che cacchio Ok Quindi ragazzi Come ho detto prima Da questo video è tutto Ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti.